Ha deciso di festeggiare l'8 marzo, la giornata della donna, con una conversazione a più voci sulle cosentine illustri, l'amministrazione comunale di Cosenza, nella Casa delle Culture, location attualmente sede della mostra sulla Cosenza Postunitaria. Così, dalla regina Isabella d'Aragona alla monaca santa, passando per Irene Telesio e Giuseppina de Matera, dieci tra le protagoniste della storia della città dei Bruzzi sono state raccontate con storie e ricordi dai diretti discendenti e studiosi delle illustri donne cosentine. La nostra volontà è quella di far conoscere le donne cosentine che, da un punto di vista storico, anche da un punto di vista religioso, hanno segnato e tracciato la storia della città di Cosenza. Una iniziativa... Lo devo, le direi, perché poi l'8 marzo rischia di imbalsamarsi un po' o di diventare motivo di gioia per i ristoratori, che accolgono gruppi di donne alle grecenette. Se un senso ce l'ha anche quello di ripercorrere la memoria, di vedere queste donne che hanno dato, come dire, forza, prestigio, autorevolezza, passione a questa città. Il ruolo della donna non solo compagna, ma protagonista nella vita sociale e politica della nostra città. Essere donne oggi a Cosenza significa essere impegnati a 360 gradi dalla maternità alla politica. Sicuramente è un ruolo non facile, ma è un ruolo che le cosentini illustri e non sanno portare avanti, con discrezione, con impegno, con forza, tenacia e determinazione.